Ben trovati telespettatori di TV6, appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di venerdì 23 dicembre. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che su gran parte del territorio nazionale avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato, ad eccezione del sud Italia dove avremo ancora cieli nuvolosi o molto nuvolosi. La ventilazione media proverrà dai quadranti settentrionali e i mari risulteranno generalmente poco mossi o mossi, ad eccezione dello Ionio che risulterà ancora molto mosso. Per quanto riguarda l'Abruzzo al mattino avremo condizioni di tempo stabile ma accompagnato dalla presenza di molte nubi su tutto il territorio. Tuttavia nel corso del pomeriggio e della sera le condizioni meteorologiche miglioreranno velocemente e i cieli risulteranno prevalentemente sereni. Le temperature inoltre risulteranno in generale aumento su tutto il territorio. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento.